Questo brano è un brano classico, di solito lo eseguo in forma classica, però Giovenuti e Stefan Grappelli l'avevano arrangiato e dal nome di Zer Canarin, eccetera, Canarino eccetera, e aveva fatto il nome giusto, io ho trovato lo spartito in giro Hot Canary, l'ha trasformato un po' giacisticamente, e fuori una cosa un po' tra il facetto e il c'è una cosina, tu lo fai così allora, non lo fai così, lo faccio nell'ambito della serata, nell'ambito della serata, è tutta un'altra cosa insomma, no ma io pensavo che bravo come sei, staverei che adesso fa il Canarino senza il violino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.